Sul prato si notano ancora le tracce degli pneumatici del camion rubato la notte scorsa da Regini Reverde Garden in località Chiaruccia. I ladri, secondo le ricostruzioni dei carabinieri di Fano, sarebbero gli stessi messi in fuga ieri sera dalla polizia mentre tentavano di mettere a segno un furto in un'abitazione a Centinarola. Gli agenti avevano inseguito il trio a piedi per poi perderlo di vista nelle campagne a causa dell'oscurità. I malviventi che si erano recati in via Valeggio con una Mercedes di colore bianco rubata in Friuli e poi sequestrata dai poliziotti a quel punto si sono ritrovati senza un veicolo e a quanto pare il loro gruppo non sarebbe composto soltanto da tre persone perché alcuni di loro avrebbero rubato una Ford Fiesta sempre in zona Centinarola e poi ritrovata stamattina alle 11 nel Bolognese mentre altri si sarebbero diretti nell'abitazione della titolare di Regini, Reverde Garden, nelle vicinanze del negozio e nel momento in cui lei era fuori casa. Nella sua abitazione hanno rubato le chiavi del camion, poi si sono diretti nell'azienda e sono scappati a bordo del mezzo dopo aver tagliato la rete di recinzione. È un camioncino riconoscibile? Sì, perché ha le scritte di fiori e piante Regini, quindi ha queste grosse rose color terracotta, arancione e quindi si distingue bene il camion. Lo scorso 17 novembre avevano tentato probabilmente di fare un furto simile? Sì, ci siamo accorti che però hanno tagliato per una parte la rete e non il filo di luci, quindi evidentemente sono stati interrotti da qualcosa. Vi siete accorti questa mattina? Sì, sì, siamo accorti questa mattina. E lo stesso camion è stato ripreso alle 23.36 dalle telecamere di videosorveglianza del centro Scarpagionmi, un negozio di calzatura, abbigliamento e accessori in via in Audi a Bellocchi di Fano. Per introdursi nello stabile, i ladri hanno infatti utilizzato il mezzo pesante rubato poco prima per sfondare una grossa vetrata laterale, poi hanno iniziato ad arraffare decine di piumini appese alla parete di fronte. Nelle stesse immagini arriva la conferma del numeroso gruppo di persone in azione. Si notano infatti almeno 7-8 uomini con il volto coperto da passamontagna. Scattato l'allarme, sono intervenuti i carabinieri di Fano che continuano ad indagare sugli episodi.